Musica Domani usciamo con il primo libro di Logotel, primo perché potrebbero esserci in futuro magari degli altri La UB Economy siamo noi, la nuova economia deve essere un'economia che si basa sulla partecipazione e condivisione Siamo andati a pescare in maniera, come direbbe Thomas, un po' anarchica e un po' destrutturata, però questa è stata la vera grande forza Siamo andati a prendere imprenditori che si occupano di nuova impresa sociale e del nuovo UI collettivo Un libro navigabile, un libro aperto, un libro libero ed è un libro infinito I spunti, idee, strumenti, domande, risposte, mappe, tutto cliccabile, smontabile, rimontabile, copiabile È un libro pieno di immagini perché nessuno ha più tempo di leggere Quindi ne è venuto fuori questo prodotto, che alla fine è un prodotto molto snello, molto semplice È importante perché secondo me almeno dal poco tempo che sono a Logotel Ho capito che rispetto alle altre aziende riesce ad ascoltare, capire e realizzare qualcosa che gli altri non riescono a fare I bisogni degli utenti All'esterno del sito troviamo tutta la parte dei social network Posso avere un accoppio di questo libro? Perché qua pensate che sono tutte frottole Io sento... è questo L'avevate già tutti visto? Perché Giuliano ha fatto una tecnica di marketing virale, è stato di lasciarlo sulla scrivania E poi c'è tutto il passaparola, il giorno in cui non c'erano c'era gente che entrava e usciva C'è l'ho visto, l'ho toccato È questo oggetto qua, questo libro è pesantemente collegato a Logotel E noi vogliamo farci trovare preparati Quindi da domani anche noi facciamo ingresso nei social Racconteremo, almeno in questa fase iniziale, il nostro lato B Il video che sta girando Massimo e Lara in questo momento sarà anche il nostro primo contenuto Domani monteremo una bella clip con... Dopo abitagli Questo è il nostro libro Vi dico veramente di cuore, grazie per il gruppo di seguito Arrivederci Grazie 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 Grazie